Voltiamo pagina e andiamo a Pesaro per tre giorni di incontri e spettacoli. Per riflettere sulle contraddizioni del mondo contemporaneo, Cesarina Trillini ci spiega perché la filosofia prende a prestito i versi dei Beatles e mostra il suo lato pop. Vediamo. Ieri è arrivato improvvisamente, cantavano nel 1965 i Beatles. Un eterno ritorno, quello del quartetto di Liverpool, che è anche uno spettacolo filosofico musicale all'interno di Pop Sofia. Ma della manifestazione che porta a Pesaro la riflessione sui dubbi e le contraddizioni del mondo contemporaneo, quel verso è la colonna portante. È già ieri il filo conduttore che unisce in quest'edizione 2019 lezioni, dibattiti e spettacoli. Le iniziative di Pop Sofia di questi tre giorni varranno a mettere in luce la forte problematicità della nozione di tempo e anche i modi di concepirlo lontani dal senso comune. Il tempo dunque, interpretato come una sfida con ricordi del futuro, dove il pubblico modifica la trama di una fiction. Il tempo è la perdita, un racconto che parte da Virginia Woolf e arriva al film con Lady Gaga, è nata una stella. Il tempo di Peter Pan e del mito dell'eterna giovinezza, ad aprire gli incontri chi il tempo lo ha messo per professione al centro della riflessione e della ricerca. È possibile citare un grande filosofo come Sant'Agostino che ricordava una circostanza che spesso dimentichiamo e cioè che tutti noi crediamo di sapere bene che cos'è il tempo, ma se qualcuno ci chiede di definirlo non sapremo che cosa rispondere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!